buongiorno fanciulli prima guerra col nuovo aiuto sul campo che è questo qua l'equalizzatore bellico ogni tre turni vengono eliminati tutti gli effetti le iterazioni eccetera da tutti quanti quindi io ho fatto una squadra di difesa che fa veramente ridere i polli non sapevo come farla ho messo il doppio colore mai fatto infatti mi stanno facendo la bua e adesso niente ci cerchiamo un bersaglio e cerchiamo di capire come giocare allora ho scelto questa squadra perché ho scelto questa squadra perché ho scelto questa squadra ha delle truppe micidiali questo qua mi farà un sacco di male però conto di riuscire a salvarmi da vela e da da margiana vediamo vediamo intanto dobbiamo tirare giù l'ian e quanti rossi mica troppa roba qui facciamo blu per gialli anziché partire subito con i verdi sì ok vediamo se inizia a scendermi qualcosa mi è sceso un po di roba guarda ok io ancora non ho gusto mi fa male sì però c'è melendor con 15 di vita per leone e melendor non c'è più allora e dovrebbe riuscire a bruciare lo so che un diamante viola ma voglio tentare di voglio tentare di non caricare nessuno allora beh sì sono protetta da grazul no non sono protetta da grazul perché è partito l'equalizzatore di non ho contato i turni non ho contato i turni brutto 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 questa cavolo io questa non so come gestirmi chissà che non entri un rosso lì in mezzo non è entrato niente questa guerra non me la so proprio gestire adesso dovrebbe guarirmeli tutti però ma è inutile che mi riusci poi no lì abbiamo dei grossissimi problemi muoio di brutto anche vediamo se riusciamo almeno a uccidere vela perché ok ciao morta mamma mia che male tre turni devo ricordarmi di contare i tre turni ma porca altra squadra che io non saprei non saprei andiamo a puntare Jabba e vediamo cosa succede allora rosso giallo di qua tra l'altro me lo tengo questo scende perdo un giallo se vengo di qui perché mi partono i blu sotto quindi il giallo non scende di uno ma scende di due andiamo di qua allora quanto mi manca per caricarmi queste sono poche per cui adesso lo facciamo così dolore ok qualizzatore partito quindi io posso ammazzare Jabba lì c'è chiama l'Asia perché è quella che è più e orianima che carino e muore va bene e muoiono tutti e quindi possiamo parlarne di questa cosa togli i danni togli i danni togli i danni togli i danni ok ma cazzarola ma io farei guarda così ti abbasso dai gialli di qua che lei dovrebbe morire e da cattiva tutti i gialli su margiana perfetto ti lascio curare sì ti lascio curare non toccarmi giù perfetto no dovevo tenere ok sono rimasti no c'eravamo quasi dimmi che entra un rosso che muore dimmi che muori perfetto e l'equalizzatore va bello è una cosa diversa sono contenta però cazzarola che fatica a tenere il conto allora a me l'endoro ho tolto il costume e lo secondo me l'endoro ho tolto il costume perché tanto il tempo me la toglie allora il cortone quello resta su quello si sposta andare su vela no non allora con uno non si carica su lo kingston vediamo non darmi però mi raccomando perché io poi mi emoziono troppo ma mi conviene tenere ma facciamo così non era quello che avevo pensato ma il pugno fottissimo mi ha fatto pugno fottissimo in faccia hai visto cautivo ovviamente la sua vela schilla quando ci sono tutti e tre i turni ancora da fare non c'è l'equalizzatore a metà ma porca miseria blu a me grazie apprezzo se non muoio io non è andato io lo so che l'equalizzatore mi toglie tutto quindi io quasi quasi aspetterei io aspetto facciamo partire i gialli non farmi partire i blu non farli partire adesso non fa poi bo ok c'è ok un corno perché adesso non ho abbassamento di di magni ma vela se ne va e grazie devo curarmi per forza e non mi posso curare qua ci sono ancora i minion di telluria allora con questo tutti carichi sto giocando malissimo questa partita pugno fortissimo deve morire io lo so che è pronto anche victor ma allora no facciamo già di viola che partono i no non partono il blu perché sono senza curatore di nuovo non lo sopporto io quando sono senza curatore adesso sono senza tutt'ora adesso sono senza tutt'ora riusciamo a ucciderlo così potevo aspettare l'equalizzatore che rimetteva tutto al zero ma io sono stupida e non l'ho fatto riusciamo a ucciderlo così riusciamo a ucciderlo così e rinasce perché io sono intelligente dimmi che muori 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 vorrei dire che sono squadre fantasiose in realtà sono cioè ma non so come metterli insieme gli eroi io vabbè però io un po mi sento presa per il culo e adesso sappilo allora se faccio sparire il blu no mi partono i viola potrebbero partire gialli potrebbero entrare vediamo cosa succede qua non è parte tutto ma 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 noi lo facciamo diversamente adesso facendo potrei anche provare a caricarmi pure i rossi però io dovrei riuscire a fare un diamante no non dirmi che si 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 pulisce prima di schillare fastidio fermo quanto hai tu di 404 che è pericoloso quinto sei sarnia che mi riprendono tutti razzola è più vicina a schillare ma non dovrebbe essere un problema teniamoci vivi ok aspettiamo che finisca l'effetto allora fermo tutto così bravo tu pulisci adesso arrivo io se faccio partire i viola beh mi libero il borde ma lui potrebbe anche morire però così a 3 di momento belle le combo così belle ci piacciono a noi ok vai vai che adesso ti pulisce da qualcosa vengo a prenderti ah vuoi che io faccio una mossa però ecco poi la fa lui la mossa mi dovrei curare speriamo che non si carichi quintus se non sono morta ok porca miseria sono andata con una 3.000 e 4.000 a 3.000 dopo guardo dopo guardo però se si riesce a sincronizzarsi con l'aiuto sul campo si può fare si può fare sono indecisa se andare con un operatore in meno mettere Obakan che ha il suo bel contrattacco dove ci si possono schiantare un po' però sono troppo abituata in 3.000 e 2.000 non la rischio così se non tanto voleva facessi una mano oi la oi la oi la oi la oi la preparo i gialli l'alternativa no andiamo così e così e così ah certo io curatori li ho presi tutti viola giustamente quindi qua mi faccio il giallo così così preparo e sentiro il male allora vediamo se riusciamo a far fuori no ovviamente no ovviamente no palle ho un discreto bisogno di curarmi ok l'equalizzatore l'equalizzatore mi fa troppo ridere sta cosa qua dimmi che mi posso curare un po' un pochino senza che mi ammazzi brutalmente ciao misto è stato bello fermi che forse forse qualcosina riusciamo a fare eh ma forse tanto mi devo curare vediamo se tu muori ok cioè praticamente deve fare tutto leonide muori no non è morto ok io ho finito i miei colori curiamoci oh che uno se n'è andato ok ce la possiamo fare noi teniamo duro perché ce la possiamo assolutamente fare con i gialli lei muore ma io non mi curo ma non mi interessa deve morire lei ok perfetto ti si aspetta che mi curo poi ne riparliamo eh scava che cazzo qua io ho qua adesso sono attaccato i ciocchini così magari ha dato il via a sky nessuno vuol dire andiamo a raggrupparne un po' gialli pensiamo di farli entrare o teniamo così per un altro giorno ragazzi scusate sto facendo veramente una gran fatica vado ad attaccare adesso tanto l'equalizzatore bellico ma mi fa troppo ridere il nome scusate tu dovresti morire ora così no? perfetto andate benino ho l'ultimo con la squadra vediamo che squadra abbiamo a disposizione tu mi suggerisci questa che ovviamente io non farò allora vediamo se ho ancora un melendor da qualche parte no usati tutti ho sicuramente Kirill a quel punto potrei togliere scusate mi faccio i conti da sola allora non si fa non si fa quello che sto per fare però rossi li abbiamo esauriti e non posso portarmi dietro un Wilbur o altro perché sarebbe la fine oh se riesco a caricarmi se riesco a caricarmi questa potrebbe essere portata a casa mi carico con i tre di lato e poi faccio partire e poi faccio partire il mondo allora ho i tre in faccia così no facciamo così fermi fermi tutti una curatina una picchiettina un'altra picchiettina e ancora vivo sei andiamo su Hazlar ma se non le ho difese abbassate ma tu quanto vai 205 e Hazlar me li prende tutti però no 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 siamo qua e via non si attacca in mono non si attacca non si attacca io ve lo dico non si attacca in mono una curatina qua 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 si viene a bruciarmi che tanto adesso sei andata e cominciamo e uno e due e non ditelo a Skylar ma ce l'abbiamo fatta ma ce l'abbiamo fatta non si attacca in mono io ve lo dico ancora ancora quanti non mi ricordo quanti ho fatto uno due tre questo mezzo quattro quattro one shot e due ma non male 259 punti a ridendo e scherzando speriamo bene perché i nostri avversari sono già a 5.600 hanno ancora 19 attacchi noi bene abbiamo 111 possiamo andare a prenderli fra l'altro loro sono bloccati perché hanno tutti i nostri più forti sul campo quindi incrociamo le dita speriamo bene che così avremo il baule ciao